Probabilmente l'opera di qualche vandalo in cerca del più stupido degli svaghi notturni è stata divelta e ridotta a pezzi la targa di pietra che ricordava l'inaugurazione del monumento dedicato alla Madonna Immacolata 56 anni fa in piazza Plebiscito a Barletta. La piastra infranta la scorsa notte era stata riprodotta e posata nello stesso luogo sullo Pukimi si fa per iniziativa di Don Sabino Lattanzio dopo che quella originaria era andata dispersa. Questa mattina, su richiesta del sindaco Cannito, gli addetti della Barsa sono intervenuti per recuperare e riassembrare i pezzi della targa votiva. Un marmista si è occupato di ricompattarla ed ancorarla alla sua base. Questa pietra, ha sottolineato il primo cittadino, ricorda un momento di vita di questa comunità e solo l'ignoranza e la maleducazione possono spiegare quanto accaduto. Dopo le risse e gli atti di violenza saliti alle cronache negli scorsi giorni, Barletta registra ancora un gesto di profonda inciviltà. Purtroppo questi atti di vandalismo e bullismo, dichiara Don Sabino Lattanzio, vanno sempre più aumentando nella nostra città. Sia nei confronti dei monumenti che delle persone. Credevo che gli eventi tristi della pandemia in corso avessero contribuito a un certo sano rinsavimento e a una correzione dei comportamenti, ha proseguito il parroco della chiesa di San Giacomo, ma mi accorgo che tanti non vedevano l'ora di riprendere le vecchie abitudini, senza freno, per dare sfogo alla loro inciviltà e imbecillità. L'atto di profanazione nei confronti del monumento della Vergine Santissima, concluso Don Lattanzio, ci deve far riflettere. Piazza Plebiscito è stata riaperta un anno fa dopo lunghi lavori di riqualificazione, con l'auspicio espresso dal sindaco che i cittadini sapessero finalmente proteggerla e prendersene cura.